Io mi chiamo Giannino Antonio e arrivo dall'Italia, esattamente da Milano, 56 anni. Io ho avuto dei problemi già da piccolino, poi ho cominciato a avere dei grossi problemi di perdita di denti. L'ho seguita su Facebook, l'ho seguita su YouTube, la seguivo un po' da tutte le parti e ho notato questo dottore che mi ha messo sicurezza, ecco. Poi non di meno, aggiunto al fatto del prezzo che è molto concorrenziale rispetto all'Italia, mi sono deciso dopo due anni a venire in Moldavia ed eseguire i lavori, ecco. E il sabato pomeriggio sono partito, ho finito tutto in sei giorni. Grazie a Dio non ho sentito dolori, mi è andato tutto perfetto. Però devo dire che una volta che sono arrivato qui e ho fatto il lavoro, è stato stupendo. Poi tornare in Italia mi hanno guardato, tutti dicevano che erano bellissimi, non sembravano neanche finti. Sono molto felice di aver fatto questa esperienza, sicuramente non ho dubbi di averla fatta. Tantissimo, tantissimo perché non ha prezzo, come si dice in Italia non ha valore, perché vale tantissimo un bel sorriso, poter ridere senza nessun problema e avere la bocca aperta. Non ha prezzo, è molto bello, è molto bello, è molto rassicurante e ritrovi la tua sicurezza come personale, come uomo. Non posso dimenticarmi, è stata come ritrovarmi a casa, giusto, perché molte persone, mi hanno seguito molte persone, non ti lasciano mai da solo, mai, quello sì. Non posso dimenticarmi, è molto bello, è molto bello, è molto bello. Non posso dimenticarmi, è molto bello.